ed eccoci qua live dalla sala stampa del blue energy stadium dove a breve brevissimo ci sarà la conferenza stampa di presentazione di udinese como che arriva con abbondante anticipo rispetto a quella che sarà la partita stessa si giocherà domenica sera alle ore 20 e 45 la gara qui proprio in friori chiuderà il programma del terzo turno con l'udinese che ospita la neopromossa como sarà una partita però dedicata con tante situazioni da valutare un como che ha anche cambiato tantissimo sul mercato in questi ultimi giorni tra l'altro la conferenza di runia it gioca un po d'anticipo rispetto a quelle che possono essere le calde tematiche di mercato su tutte quella legata anche al futuro linea con peres a quelli che possono essere gli ultimi acquisti dell'udinese che comunque sta sondando più di qualche profilo per quanto riguarda la difesa proprio qualora dovesse esserci un innesto numerico al posto del difensore argentino rimbalza particolarmente interessante questo nome di di touré nell'orient che è un difensore classe 2003 piede mancino e pensate alla particolarità di essere il giocatore di movimento più alto d'europa 2 metri 06 potrebbe essere un innesto al momento non ci sono conferme potrebbe anche non dipendere strettamente dalla questione peres che però spinge spinge tanto per andare al porto perché è un po l'occasione importante della sua carriera classe 2000 quindi un giocatore che ha 24 anni che vuole entrare nello specifico nel giro fisso della nazionale argentina lì può giocare la champions league quindi è chiaro che ci sia una gran voglia di peres di andare al trasferimento senza nulla togliere alla bellezza della sua esperienza a udine vedremo sicuramente quello che è certo che la 23 59 di oggi insomma la mezzanotte scoccherà il gong chiuderà la finestra estiva del calciomercato e quindi si tireranno le somme runi avrà la sua rosa a disposizione immaginiamo che comunque la concentrazione è alta anche in vista della prossima programmazione in particolare per la puntata di ogni benedetta domenica che domani andrà in onda di sabato alle ore 21 che sarà un pre abbiamo anche in cantiere stiamo realizzando un'intervista con jesper karlström che ha detto cose molto interessanti sull'inizio di questa avventura per lui proprio a proposito di mercato il giocatore che si è più distinto in questo avvio di stagione bianconero restiamo in attesa dell'arrivo di costa runic abbiamo buttato lì un po di tematiche sul mercato tra cui le ultimissime il nome di ture ma anche tanti altri come detto sono quelli sondati vedremo oggi quando arriverà vorremmo dire se quando ma diciamo quando arriverà l'ufficialità di lui modesto che sulla destra però forse legato anche questo alla situazione bosele per cui non si esclude anche un prestito interno al watford quindi comunque le cose che bollono in pentola ci sono le analizzeremo poi nel corso della nostra giornata insieme nel mentre comunque sta sopraggiungendo sulla sinistra costa runic pronto a cominciare la conferenza stampa io nel frattempo mi defilo così permetto anche a alessandro firmonte di poter perfezionare l'inquadratura del mister bianconero con la conferenza che inizia fra pochissimo great or left doesn't matter Grazie. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Udinese Como, del mister. Piccola premessa, sappiamo tutti, mi rendo conto, che è l'ultimo giorno di mercato, però ricordiamoci comunque che siamo anche qua per presentare una partita, quindi cerchiamo anche di non andare solo e esclusivamente su domande di mercato, perché comunque c'è una partita anche importante alle porte. Grazie a tutti e iniziamo con la prima domanda per TV12. Il microfono arriva subito, grazie. Ma qualcuno ci sta, non tutte, prego. Buongiorno mister, domani è una partita per tanti versi, o meglio domani, domenica, una partita per tanti versi delicata contro una neopromossa come il Como, una squadra che ha cambiato tanto, ha messo nel motore giocatori di esperienza, Serghi Roberto, giovani dal Real Madrid. Però l'Udinese ha questo obiettivo di arrivare alla sosta con sette punti, con una gran partenza. Come state vivendo e preparando la partita? Sì, sicuramente sarebbe un peccato pensare ad altro rispetto alla partita domenica. Noi vogliamo concentrarci su questa partita, vogliamo sfruttare una partita casalinga per giocare in maniera molto buona, vogliamo portare sul campo molta energia e inoltre daremo di tutto per vincere questa partita, è il nostro obiettivo. Il Como è una squadra con buone, grandi personalità, in generale una squadra molto buona. Noi conosciamo i punti di forza del Como, come giocano, sicuramente è un elemento da riconoscere. Hanno un giocatore spagnolo che è stato un grande giocatore, d'altronde, che nelle squadre in cui ha giocato ha ruotato le posizioni sul campo ed è per questo che la sua squadra gioca anche un calcio interessante, a mio avviso, con molti giocatori a centrocampo, con passaggi brevi, corti. La squadra sta crescendo, il Como così come noi, e noi vogliamo giocare a calcio come vogliamo. Non abbiamo la possibilità con i giocatori, con i nostri tifosi domenica, di mettere in campo ciò che abbiamo in mente. Ovviamente sarebbe un grande risultato arrivare alla pausa nazionale con sette punti, ma non voglio parlarne troppo in quanto noi dobbiamo lavorare giorno per giorno. Noi vogliamo vincere il più partite possibile, vogliamo che le persone siano felici, ma noi sappiamo bene che abbiamo ancora bisogno di lavoro, dobbiamo lavorare intensamente. È come i primi passi di un bambino, i primi passi magari a volte sono barcollanti, non si è ancora sicuro di se stessi ed è così, è dallo stesso con una squadra che si sta formando di calcio. Noi dobbiamo migliorare passo dopo passo, non dobbiamo pensare troppo in là, dobbiamo pensare di partita in partita, di settimana in settimana, dobbiamo essere sempre più coesi, in quanto se penseremo troppo in là cadremo. Perciò oggi il nostro focus è sulla partita di domenica, sfruttare la partita di domenica e avere appunto una buona atmosfera poi dopo la partita e lavorare durante la fase nazionale. Sappiamo che nel caso di una vittoria contro il Como avremo tre punti, ma vorrei dire anche più di tre punti. Sappiamo che il Como ha giocato bene, a mio avviso, contro la Juventus, ha giocato in maniera coraggiosa. Non sembrava una squadra neopromossa contro la Juventus. A Cagliari hanno sferato la vittoria, sicuramente faranno di tutto per renderci la vita difficile, noi faremo di tutto invece per portare i tre punti a casa prima della fase nazionale. Io non vedo l'ora di giocare contro il Como, vedo le giocare di fronte al nostro pubblico e spero appunto di vincere. Buongiorno mister, sia con la domanda sia con la sua risposta, mi avete preceduto, perché io sono convinto che la gara di domenica sarà decisamente più dura rispetto a quella di Bologna e con la Lazio. Io non voglio parlare di mercato, perché il mercato c'entra relativamente, però siamo al mercato domenica, che si è appena concluso, due giorni dopo. In qualche modo può scombustolare, rovinare, disturbarvi il mercato adesso per questa partita. Perché servirà l'Udinese migliore per battere il Como, eh? Quale per il mercato? Non penso. Al di là del mercato, noi stiamo lavorando. È vero, potrebbero esserci ancora alcuni trasferimenti, ma onestamente io continuo a lavorare, io faccio quello che devo fare, sono concentrato sul mio lavoro, sui miei giocatori che ho a disposizione, e sugli avversari. Non posso invece avere un impatto sul resto. E non è neanche importante. A mio avviso, la cosa più importante è la prossima partita. Dopodomani a casa, qui in casa, contro il Como. Al Cefugi. Mister, volevo chiedere... No, no, aspetta, Guido, perché se no... Hai risposto? Eh no, ho capito, però la fai un'anno e fai un'altra dopo, se no ci accavalliamo e per la traduzione diventa problematico. Volevo sapere come sta Thomas Christensen. Va molto bene, sta molto bene. In generale è un ragazzo molto aperto che si allena bene, per la prima volta domani sarà in panchina qui con noi, per la prima volta questa stagione, e perciò se un giocatore è in panchina vuol dire che può giocare. Ma vogliamo, prima di tutto, continuare a lavorare con lui e sfruttare la pausa del nazionale per dargli un po' di tempo. Ma è a disposizione. Sta sempre più migliorando durante l'allenamento. È un ragazzo molto bravo. A me piace, anche proprio il suo comportamento, come si comporta sul campo. Io sono contento che finalmente possa fare parte effettivamente della squadra, anche nel fine settimana, in occasione delle partite. Abbiamo delle buone sensazioni appunto in vista del suo ritorno. Buongiorno, mister. Buongiorno, sono qua. Le chiedo brevemente, a livello tattico, cosa cambia non avere Perez domani nell'uscita dal basso che lei ha cercato nelle ultime partite, ho visto. Si chiederà magari a Cabasello chi per lui lo stesso tipo di compito e se ha sciolto il dubbio a sinistra tra i giocatori che possono giocare. e quindi le chiedo se magari a Kellencamp potrebbe fare quel ruolo. No, a Kellencamp non può giocare per quanto riguarda la fase sull'esterno. Io non voglio cambiare troppo rispetto alle scorse partite. Noi vogliamo avere un centrocampo molto robusto, l'abbiamo avuto con Lovric, con Zahra e con Kallstrom. E anche Eki ha giocato pochi minuti sulla sinistra, ma domenica sarà una situazione diversa. Noi dobbiamo ancora deciderci per quanto riguarda chi sostituerà Perez. Non abbiamo troppe alternative al momento, in quanto Christensen non vogliamo ancora rischiarlo dall'inizio. Perciò non abbiamo troppe alternative, ma abbiamo una squadra molto forte, di buoni giocatori, che sicuramente potranno occupare questa posizione. Vogliamo sfruttare anche l'opportunità che abbiamo. Noi non cambieremo troppo come vogliamo giocare. Noi dobbiamo essere aggressivi, vogliamo essere coraggiosi. Dobbiamo affrontare i duelli, dobbiamo essere aggressivi quando gli altri non hanno la palla. Non dobbiamo lasciare troppi spazi al como, in quanto, come detto, è una squadra che gioca bene quando ha il pallone. hanno un centrocampo molto variabile, ruotano molto, hanno il proprio stile. Noi sappiamo cosa bisogna fare e vogliamo portare a compimento il nostro lavoro. A mio avviso sarà una partita molto interessante. e sono dell'avviso che ogni partita che avviene è la difficile. Forse la prossima sarà ancora un po' più difficile rispetto a quella contro la Lazio. Perciò il mio focus, la mia energia è sul portare tutta la nostra energia per tutti i 90 minuti domenica. Chiedevo un commento sulla crescita di Brenner e su come Lovric si sta adattando a questo ruolo di mediano che lui che era più mezzana. Ecco, su questi due singoli. Grazie. Brenna è molto bravo, l'ha già dimostrato. Io mi aspetto molto da lui. Ha una grande tecnica, buona corsa, si propone per avere la palla. Può occupare diverse posizioni sul campo. Non conosco ancora bene al 100% la formazione. Farò qualche cambiamento e sicuramente cambieremo Perez perché non ci sarà. Ma io prendo le mie decisioni domenica prima della partita. Io mi aspetto da lui ancora più responsabilità, ancora più presenza da Sandy a centro campo. Ovviamente che sia anche pericoloso per la porta avversaria. Per quanto riguarda Brenner possiamo dire che ha fatto grandi passi in avanti. durante la preparazione ha avuto dei problemi al ginocchio e ce li ha ancora un pochettino. Ma stiamo lavorando molto con lui. Lui è molto diligente e sta facendo grandi passi in avanti. Sono contento per lui in quanto è un giocatore di classe, è un grande ragazzo e non ha ancora dimostrato tutto il proprio potenziale. A mio avviso può fare ancora molto di più. Se lo si guarda durante gli allenamenti è pericoloso in fase offensiva, molto forte quando ha la palla tra i piedi e lo sta sempre di più dimostrando. Quando avrà una forma fisica ancora migliore sarà ancora più presente sul campo. Perciò l'obiettivo è che migliori la forma fisica fino ad ora lo sta facendo bene e il prossimo passo sarà appunto fornire un'ulteriore prestazione dimostrazione della sua qualità domenica contro il Como. Parlando invece di di Toven subito dopo Bologna ci ha colpito che la prima cosa che ha fatto è venire da lei a chiedere quasi scusa per il rigore sbagliato da buon capitano e poi contro la Lazio risponde in campo con una prestazione super era convinto che avrebbe fatto subito una buona prestazione e è un giocatore che può davvero determinare le sorti dell'Udinese se è in giornata positiva. assolutamente è fondamentale per noi ha una grande personalità e si sta assumendo sempre più responsabilità dato che è il capitano non per forza gli devo dare un feedback dopo una brutta partita in quanto è molto critico con se stesso non ha giocato bene contro il Bologna si sentiva di aver giocato una partita molto brutta e perciò era convinto di poter migliorare e contro il Lazio ha giocato benissimo infatti ha giocato a livello tattico anche molto bene noi dobbiamo come squadra giocare bene occupare gli spazi tenere le distanze e Toven cerca di effettuare anche la fase difensiva nel miglior modo possibile ed è un giocatore lo sappiamo tutti di classe e adesso non è che ogni volta bisogna sottolinearlo mister domenica non ci sarà Assana Camarà per squalifica in questo momento un'assenza un po' pesante considerando qualche difficoltà che c'è anche sulla fascia destra sarà Giordan Zemmour a sostituirlo? ecco come non ci sarà Noi noi vediamo il il gioco il gioco il il gioco il gioco il gioco gioco il spesso il questa posizione e è ha una buona preparazione è assoluta e es non che non A mio avviso potrebbe dare il proprio impegno, potrebbe sfruttare i minuti che hanno ancora giocato per dimostrare la propria presenza sul campo. Volevo chiedere invece come stanno Pizzarro gli altri che erano più indietro di condizione, quando è possibile utilizzarli anche come cambi, quando potremmo vederli, è anche Bravo, volevo chiederle, come lo vede? Bravo lo sta migliorando durante gli allenamenti, io sono contento del fatto che Pizzarro anche lui si stia allenando sempre con la squadra, ha bisogno di recuperare, ma sta dimostrando la sua classe. E' un giocatore particolare che gioca con aggressività, dobbiamo essere ancora un po' pazienti, ma sta migliorando. Come già detto l'ultima settimana, non posso dare una risposta precisa, quando sarà a disposizione dipende da molti fattori, dall'avversario, da come si allena, da quanto migliora, anche dalla tattica e così via. Pizzarro è un giocatore giovane, con un grande potenziale, che è stato comprato per questo, sicuramente avrà le sue occasioni, giocherà. Icar Bravo, per me è un gran bel giocatore, sarebbe potuto entrare anche con la Lazio se non fossimo rimasti in dieci. Ma io ho preferito, appunto, per il suo debutto risparmiargli un debutto in una partita così difficile, essendo rimasti in dieci. Io resto in tema di attaccanti, mister, perché volevo chiedere un parere su Lorenzo Lucca. Si stanno avvicinando magari anche le convocazioni per le nazionali, potrebbe pensarci Spalletti, non so se lei lo ritiene all'altezza della nazionale già, ma di certo, rispetto alla partita di Bologna, a mio parere ha giocato un'ottima partita con la Lazio, agevolato anche dalle distanze in campo di Toveni e di Brenner. Quindi diciamo che lei sta trovando le distanze e i movimenti giusti in attacco con Luca. È un giocatore che si sta sviluppando, è giovane. E sono molto lieto di poter avere un attaccante del genere, in quanto nella Serie A non conta solo la tecnica, ma anche il fisico. Lui ha una buona prestanza fisica. È un tipo di giocatore che non si risparmia mai, va a contrasto sempre, è molto presente in area di rigore avversario, è molto pericoloso nella fase offensiva e sono contento che abbia assegnato contro la Lazio. Ha segnato di testo e per me è una delle sue migliori qualità, anche quando difende. Quando il cross è buono e arriva, sappiamo come si sa muovere nell'area di rigore. Per quanto riguarda la Nazionale Italiana, non è il mio lavoro, non saprei dire. Io mi voglio concentrare sui miei giocatori per farli migliorare. E se si gioca in maniera buona costantemente, se si segna regolarmente, quando non si fa solo il ravolo sporco, che comunque è una buona cosa, ma quando si fanno anche gol, quando si creano spazi per gli altri e si lavora in maniera così costante, penso che sia una questione di tempo prima che possa essere magari convocato per il Nazionale. Sui tifosi, perché abbiamo parlato un pochino dopo l'allenamento aperto, ascoltando i tifosi davvero sono tanti feedback positivi su lei, mister, anche su queste iniziative, le fa piacere essere partito con il piede giusto, qui anche nel rapporto con i tifosi. Credo che in questa regione una squadra come l'Udinese sia molto importante, sia importante creare, identificarsi con la regione, con i tifosi. Noi abbiamo fatto questo allenamento a porte aperte, e sicuramente faremo altre manifestazioni. È stato molto bello l'allenamento a porte aperte, abbiamo visto molte persone felici, noi non abbiamo segreti, siamo aperti, vogliamo essere aperti con i nostri tifosi, sentiamo una gran bella euforia, il che costituisce un'ulteriore spinta per noi, ma non è un motivo per adesso deconcentrarsi. Noi nel calcio bisogna iniziare bene, ma bisogna mantenere la costanza, continuare a lavorare su se stessi, migliorare. Bisogna fare ancora più gruppo e ottenere buoni risultati. Sicuramente siamo sulla buona strada. La mia squadra è una squadra che lo sente proprio, sente la fiducia dei tifosi. E noi, da nostro canto, in cambio dobbiamo fornire delle grandi prestazioni, dobbiamo fare tutto ciò che è nostro potere per rendere questo stadio una vera e propria fortezza. Qui a Udine. Deve essere veramente difficile giocare a Udine contro l'Udinese. Lavoro. Però, se non vi prenotate, perché sennò per la traduzione è il problema. Quindi dimmelo sempre. Un'ultima cosa, volevo chiedere su Sanchez, se ci sono novità. Come sta, se avete avuto qualche indicazione di più sui tempi di recupero? Ci vorrà ancora un po' di tempo. Ha avuto questo infortunio e quando capitano questi infortuni le situazioni possono essere diverse. Bisogna vedere come la situazione di Alexis evolve. In ogni caso, nel prossimo periodo, sicuramente per un mese, dobbiamo rinunciare ad Alexis. Dobbiamo concentrarci sul suo recupero e sicuramente non siamo contenti di questo infortunio. Prima di tutto anche Alexis, in quanto si aspettava un ritorno diverso. neanche noi. Io avrei voluto che anche Alexis avesse avuto l'opportunità di condividere l'euforia che stiamo provando in questi giorni, ma così al calcio, lui è un professionista, sa che ha subito questo infortunio e sa che deve seguire in maniera molto diligente un determinato programma per rimettersi in forma e speriamo di vederlo in campo presto. Come detto, non posso direvi quando di preciso rientrerà. Non voglio neanche dirlo perché se magari vi dico qualcosa oggi poi non corrisponderà la situazione. Noi ci prendiamo il tempo necessario. Alexis è sostenuto da tutta la squadra e è seguito da esperti e ha anche una grande esperienza conosce il proprio fisico e sicuramente farà di tutto per riprendere la forma migliore. È un giocatore che appunto sa in maniera istintiva cosa bisogna fare per recuperare il più presto possibile. Inoltre vi sono molte persone che stanno lavorando al massimo per far sì che torni il più presto possibile con noi. inoltre inoltre Grazie a tutti.